I am what I am, I am my own special creation TZ 101 I am what I am Eccoci qua, buonasera Tommy Buonasera, ciao Carlotta, buonasera Ciao, ciao Tommaso, ti dico subito una cosa Al fine ottobre riparte Cosan's Show e tu ci sarai sempre Pensavo di mettere una lavagna E tu sulla lavagna scrivi le icone sessuali o non della settimana Ah, fa bene, mi piace questa rubrica sessuale Le icone di questa settimana sono Va bene, ci piace Dai, dai, pensaci Lavoraci, lavoraci Ci lavoro, bravo Senti abbiamo detto, Costanzo ha chiesto al TZVIP Perché ti segue così con questo gruppo nutrito Non ti dico se è scatenato di tutto C'è Silvia che dice Ma io lo seguo perché Tommy è la mia vita Ecco, così tanto per citarne una Silvia che potrebbe essere l'eletta di stasera Perché sei la sua vita Sei la sua vita Salutala, sì sì, per l'amor del cielo Sì, 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 ciao Silvia Ecco Come va? Sei bello indaffarato, eh? Ah, beh, quello finché sei indaffarato